buongiorno ragazzi allora ciao ragazzi vi faccio vedere la mia miscicanza seminata da me e consumata con fallattiche e dopo un mese è stata messa guardate quanto è bella domani si raccoglie si mette nelle vaschette e la vendiamo guardate che spettacolo guardate che bel prato di miscicanza bravissima anche lei mi aiuta vedete riscavando tutti quanti i fiori che ho messo va bene comunque guardare che bella si raccoglie domani nelle vaschette e credo di venderla a 1 euro e 50 vaschetta bellissima ciao ragazzi buona giornata e buon orto a tutti